ciao a tutti ragazzi eccomi riemergere nuovamente dalla nebbia anche oggi parlo di liquidi anche oggi sono stato deluso è incredibile ragazzi ma quanto è dura la vita del recensore ci tocca comprare cose che poi magari non ci piacciono però lo faccio anche per voi sono sincero faccio un po per me perché mi diverto ad assaggiare sempre cose nuove un po lo faccio per voi soprattutto perché cerco di comprare le cose appena uscite cose che vedo che vanno per la maggiore però purtroppo ragazzi o sono difficile io o la gente si fa trascinare dall'entusiasmo sicuramente campagne mediatiche la pubblicità è fondamentale l'anima del commercio quindi e niente quindi volevo parlarvi appunto oggi di questo liquido che sta spopolando dopo l'onda di entusiasmo del tupaf mi sono fatto coinvolgere un'altra volta mi ero ripromesso di stare più attento invece ci casco sempre ragazzi e oggi voglio parlarvi dello staked il diz waffle parliamo subito di questo waffle perché comunque ho visto un po di recensione del fantastico danielino 77 che stimo veramente tanto lo ammiro anzi consiglio di iscriverti al suo canale di seguirlo perché è simpaticissimo è anche romano quindi è veramente seguitelo seguitelo però appunto parlavo del waffle ecco comincio a perdermi ma scusate il caldo ragazzi se avete la fornace tutto chiuso ma c'è un forno crematorio di fuori una cosa brutta 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 ragazzi il caldo è veramente una cosa brutta comunque non ripartire Oscar non ripartire per la tangente ormai lo sapete ogni tanto parto nei miei deliri dopo di anche al caldo sicuramente il waffle sicuramente è questa cialda questo biscotto americano però volevo farvi capire un pochino non so se qualcuno conosce le ferratelle le ferratelle sono un biscotto tipico abruzzese alto lazio comunque questo biscotto si va con la farina zucchero uova e quant'altro e c'è una sorta di piastra grigliata nel quale va colato questo liquido vengono stampate queste ferratelle quindi è questo biscotto nella sostanza questa cialda di biscotto quindi se non conoscete il waffle americano ma conoscete le ferratelle diciamo che ovviamente poi gli americani caricano molto di più le cose però potrebbero essere quanto meno simili niente quindi nella descrizione questo nuovo liquido che sta facendo impazzire il mondo dello svapo è questo waffle con questa meringa avevo sentito parlare anche di limone se cercate un pochino le immagini si vede se ci sia questa meringa il limone niente ragazzi sono stato deluso perché non deluso però ovviamente ero carico di aspettative c'era questo limone questo biscottato questo cremoso quindi comunque ovviamente contentissimo perché sapete che la mia linea in assoluto preferita quindi l'ho acquistato un po' per me un po' per voi sinceramente ragazzi lo faccio anche per voi perché almeno ci pensate un pochino più di me sinceramente perché lo sapete io la mia fedelissima compagna voi non la vedete ma è la scimmia che mi prende ogni volta quindi prende acquisto ed impulso non lo fate vi consiglio di assaggiarlo e poi decidere se comprarlo perché è un liquido molto particolare nel senso che io sinceramente non ci ho trovato questo miracolo non grido al miracolo non ho visto l'immagine veramente della tantissima apparirmi in sogno dopo averlo svapato non è un liquido cattivo però sinceramente io ragazzi ripeto non grido al miracolo siamo sempre lì questo liquido dolce non è dolce basta sicuramente c'è qualche sfumatura c'è questa sfumatura biscottata questo biscottato particolare che sembra quasi un biscotto caramellizzato quindi ti rimane in bocca quello che rimane in bocca è piacevole devo dire perché è particolare abbastanza persistente è persistente scusate rimane questo gusto di tostato di caramellizzato di questo zucchero quasi cristallizzato è buono il retro gusto però il liquido nel complesso ragazzi cioè non lo so non lo so sinceramente sembra che ormai io vada controcorrente sono un po' moschetto scusatemi però ci sono rimasto un po' malino perché ho visto tante recensioni è piaciuto a tantissime persone sicuramente un all day cioè lo svapare tutto il giorno tranquillamente non mi stanca perché non è proprio stracarico però non mi fa saltare sulla sedia non mi fa esultare non ci sono i miei occhi che brillano quindi non saprei un liquido abbastanza denso io credo che qui siamo tra i 70-30-80-20 adesso non lo so con precisione sempre nicotina 3 ve l'ho detto nel video precedente io svapo a 3 di nicotina però cioè partite dal presupposto che il limone proprio non c'è il limone non c'è lo potete andare a svapare a ricercare ma il limone non c'è ragazzi sfido chiunque a sentirci il limone qui dentro io per carità lo sto provando sul griffin sto aspettando che mi torni lo tsunami perché il mio amico lab che è apparso anche in un video è andato in vacanza quindi voleva portarsi un drip per lui ancora non ce l'ha quindi mi ha chiesto di prestare lo ho prestato volentieri e sto aspettando che torni e nel frattempo lo sto svapando sul griffin che dire ragazzi che dire questo prima di comprarlo provatelo perché secondo me qui facciamo la fine dell'ethos crispy threads cioè chi lo ama e chi lo odia cioè probabilmente non lo capisco io però non è che veramente mi fa gridare al miracolo sia interessante la persistenza al palato rimane questo biscottato dolce quasi con del caramello sembra dello zucchero però poi c'è ragazzi non lo so sono un po' perplesso oggi sono anche un po' scarico tra poco devo andare a lavorare non mi va sinceramente ragazzi non mi va ma non mi ha non perché non mi piaccia il mio lavoro ma perché fa troppo caldo troppo troppo caldo fuori ci saranno 32 33 gradi e in cucina sfioriamo i 40 ragazzi è una cosa pazzesca pazzesca vabbè comunque sto ridivagando un'altra volta il liquido sinceramente è particolare non mi sento né di promuovere di bocciarlo sicuramente il liquido che si svava però a me ragazzi non fa assolutamente gridare al miracolo sapete un pochino cosa mi ricorda lo svapo qui soltanto chi veramente ha provato la lemon cake dell'angelo svapo può darmi ragione o torto io un pochino ci risento qualche sfumatura della lemon cake quindi invito chiunque abbia svapato la lemon cake dell'angelo svapo e abbia avuto occasione di provare questo stagget di waffle non so neanche chi lo produce ho sentito dire che siano dei creatori del tupaf qui sinceramente dice stagget juice quindi fa pensare che sia la stagget della casa che lo produce però non lo so sinceramente chi dice che siano veramente quelli del tupaf che l'hanno fatto ma io obiettivamente non lo so vi invito a provarlo e vi invito veramente di scrivermi nei commenti cosa ne pensate sicuramente avremo ovviamente modo di discutere perché come ho detto dell'ethos crispy threads c'è chi lo ama e chi lo odia quindi sicuramente qualcuno mi darà torto ma questo mi fa piacere ragazzi perché sapete benissimo che lo scambio mi piace quindi ancora di più invito chi ha provato sia questo che la lemon cake dell'angelo svapo a fare un confronto sinceramente se li svapate tutti e due secondo me c'è qualche sfumaturina ragazzi in questo stagget che dire non mi fa gridare al miracolo provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate un abbraccione grazie a tutti